100 milioni di euro di contenzioso, è un bilancio consuntivo, quello del 2018, che nessuno vuol firmare. In mezzo, commissari che si dimettino a raffica, uno dopo l'altro, l'ultima a lasciare sarà il prossimo 10 dicembre, Erminia Pellegrini. Sergio Tempo ha lasciato la carica di revisore dei conti dell'ASP nel novembre dello scorso anno, segnalando alla Corte dei Conti tutte le stranezze rilevate e la montare di un contenzioso pari a suo avviso ad un miliardo di euro. Per avere poi un'idea di quella che sia la situazione cosentina, basta leggere poi la delibera del commissario d'atta del luglio scorso, dalla quale si evince la presenza di bene 5.000 fatture di cui si contesta il mancato pagamento. I paradossi però in provincia di Cosenza non mancano in totale 350 posti letto per acuti, eppure si accorpano interi reparti ed altri vengono chiusi. A Cetrauro i cittadini, per vedere riaperto il punto nascita, sono costretti da settimane a protestare e scendere in piazza. L'attesa dura ormai da quattro mesi, e mentre i cittadini utenti del Cosentino trovano difficoltà di ogni genere, approcciandosi a no socomi pubblici, si scopre poi che sono stati sprecati milioni di euro per sale operatorie mai utilizzate. La realizzazione di un intero blocco operatorio a Castroviglieri, la città più importante del versante calabrese del Pollino, è stata prima annunciata con strombozzamenti politici, poi finanziata abbondantemente con soldi pubblici, e infine conclusa con una cerimonia di inaugurazione. Alla vicenda di Castroviglieri si aggiunge poi quella delle ambulanze. I medici e gli infermieri del servizio 118 sono spesso costretti a muoversi su mezzi usurati, come accade ad esempio a Corigliano Rossano, dove sono attive ambulanze da 600.000 chilometri. La più nuova, pensate, ne conta 250.000.